Consigliere, confermato il Presidente Minerva alla guida della provincia di Lecce, ecco una soddisfazione per voi? Una grande soddisfazione per noi, una grande soddisfazione che significa anche testimonianza che poi il partito, il centro-sinistra c'è, è un centro-sinistra forte, radicato sui territori e che quando punta su persone, ma su processi, su procedimenti anche a lungo termine, di rinnovo, di competenza, poi riesce a stare sul campo e riesce a vincere le elezioni. Una rete di amministratori locali preparati, forti, che hanno consenso sul territorio e che oggi hanno votato il nostro Presidente della provincia, è il Presidente oggi di tutti. Una percentuale molto alta, questo dimostra che è un Presidente bipartisan, ci sono anche voti della destra, quelli che hanno supportato Minerva. Io l'analisi dei flussi elettorali ancora non l'ho fatta, certamente è un risultato importantissimo che significa due cose, una che il centro-sinistra è forte ed è radicato e molte amministrazioni sono governate da noi, due che la figura di Stefano è una figura che piace, può piacere anche a chi viene da mondi differenti o non ha orientamenti politici definiti. È un Presidente che ha lavorato bene per gli anni del suo mandato e oggi c'è stata quella conferma, secondo noi meritata del tutto. È stato un grande risultato, ringrazio Stefano veramente per l'impegno profuso, grazie ancora Stefano.